Buongiorno a tutti, mi trovo a Castelluccio di Norcia e sono venuto qui a osservare, a vedere a che punto sono i lavori dopo il terremoto di qualche anno fa. Guardate qual è la situazione, è tutto esattamente come prima. Non venivo qui dal 2018 e non è cambiato niente. Forse sì, hanno ristrutturato qualche casa più su, per esempio questa che sto inquadrando. Anche quella sopra, c'è scritto degusteria. Ma per il resto Castelluccio è ancora ridotta in questo stato. Guardate anche di qua. È stato fatto ancora poco, ho parlato prima con una ragazza dentro un negozio e mi ha detto che parlano, 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 ma fanno veramente poco. Non mi avventuro più su perché tanto cambierebbe poco. Purtroppo questa è la situazione al 26 luglio 2024.